Benvenuti da SIGMAN presentiamo alla Fiera dei Rimini due novità eccezionali il carosello composto da 4 vasche da 200 kg che impastano in un premix che premiscela la pasta una stazione di riposo o di inserimento di ingredienti secondari una stazione di impasto e il sollevatore questo carosello ha la caratteristica di essere composto da macchine standard di SIGMA che possono essere impastatrici dai 200 ai 300, 400, 500 kg il sollevatore può essere da 1 metro, 2 metri o 3 metri e l'idromix può fornire fino a 2 tonnellate e mezzo di pasta per ora è ovviamente la possibilità di essere fatto su misura e essere adattato alle esigenze del cliente le impastatrici possono essere 1, 2, delle dimensioni che il cliente vuole possiamo fornire fino a oltre 3 tonnellate di pasta per ora su ogni linea altra novità di SIGMA di quest'anno novità assoluta sono le impastatrici con scarico dal fondo è una novità assoluta macchine con pulpito esterno con pannello di comando a PLC touchscreen assolutamente programmabile e modificabile a seconda delle esigenze del cliente lo scarico dal fondo ha la caratteristica di essere quello con il tappo di scarico più ampio possibile la macchina lavora in automatico quando ha finito di impastare si apre il tappo si ritrae all'interno sotto la macchina quindi non lascia spazio a residui di prodotto il tappeto che muove la pasta comincia ad andare e muove la pasta sulla linea dove il cliente ha necessità può essere alimentata anche automaticamente perché il pannello di comando può gestire il calico degli ingredienti direttamente da tramoggio o da silos collegate all'impianto